La partita di oggi Sono venuti un po' più fuori con il loro gioco e abbiamo avuto 2-3 minuti di blackout che abbiamo preso l'1-2 e poi non si è più riusciti a recuperarla. Abbiamo provato qualche azione di rimessa ma nulla di più. Già con Rimini era successo di prendere due gol in due minuti, è più un fattore mentale secondo te? Sì, penso sia comunque un mix sia fisico che mentale. Inizia a salire la fatica al secondo tempo, salta qualche uscita, qualche schema che provi. Gli avversari riescono a mettere più difficoltà e mentalmente c'è da rimanere più concentrati e più forti perché comunque era una partita che secondo me si poteva portare a casa in un certo modo. Purtroppo l'hanno portata a casa loro e l'hanno portata a casa loro secondo me con merito perché loro hanno fatto una buona partita secondo me e noi abbiamo da recriminare solo con noi stessi.